Allora, signori, signori, mi sono tolto le scarpe e posso camminare in mezzo alle coperte. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, camminiamo in mezzo alle coperte. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo di colori, è anche meraviglioso. Qui c'è da fare una foto per ogni coperta perché è meraviglioso. Allora ecco, io sto camminando in mezzo alle coperte, mi sono tolto le scarpe, sto camminando in mezzo alle coperte con una sensazione di libertà indescrivibile. Indescrivibile. L'ho dedicato a Martino e a Patrizia. Bello, spettacolo. C'è una mattonella perché si chiamano tecnicamente così. Qua si è dedicata alla Colombia, guardate che bella. Guardate che bello. Infezionale. Se ci perdono gli occhi ho anche le parole, è veramente meraviglioso. Buonasera. Abbiamo anche le rondine catalando che ci salutano. Qui stanno cacchierando. Guardate che bella questa mattonella. Guardate che bella, guardate che bella. Questa è veramente bella. Bello è che sono anche di là le mattonelle. Anche appena entrate e non l'avevo notato. c'è anche lo sportello Andos, il gazzebo Andos, sono anche in alto, sono davanti cappertutto, eccezionale, ne basta la pena togliere le scarpe perché dall'esterno vedi ma non ti godi quello che ti riesci a godere camminando qui in mezzo, c'è una sensazione di libertà indescrivibile. Sta piovendo, in questo momento sta veramente buttando proprio l'acqua a Zofun, guarda che bella questa coperta, la stetta aveva Zofun come si direbbe in dialetto, guarda che bella questa, bella vero? bella bella e guarda che sarà bella questa qui, guarda che bella questa, saluto a tutti quanti quelli che stanno vedendo la diretta mi stanno salutando ma qui ti parli veramente nei colori, guarda che bella pure questa qui, accoppiata a quest'altra, questa qui è veramente molto bella, meravigliosa, ha fatto il solito un suono d'acqua e sta fermato come al solito. guarda che bella, guarda che bella, guarda che bella, guarda che bella questa qui viola, con i sorelli, questa pure guardate che bella, io ve le faccio vedere così a casaccio, non chiedetemi, vai lì, vai lì, perché già ho difficoltà a non perdermi dentro casa, quindi, guarda che bella questa qui, queste sono state tutte quante realizzate, da quelle che vengono chiamate le cuoricine, cuoricine perché il progetto si chiama progetto cuore, quindi ormai si tende tutto a diminuire, quindi no, veline, oggettine, mamma che bella questa, guarda che bella, guarda che bella, guarda che bella questa, questa è veramente eccezionale, è veramente eccezionale, guarda che bella questa, questa va tutto, sono due, guarda che bella, a poter esprimere un pensiero, quello che state vedendo potete pure scriverlo, se non è che non posso vedere la vostra coperta, non potete esprimere un pensiero, forse rimanete sbalorditi anche voi, guarda che bella questa, adesso andiamo un po' alla mia sinistra, guarda che bella questa, guarda che bella, questa mi piace tantissimo, guardate, questi bei colori, tipo stacchiera, guarda che meraviglia, un abbraccio a tutte le persone che stanno guardando la diretta in questo momento, ha finito le chiove, è stata una bomba d'acqua, ha finito le chiove, ma fa pure calda, stavolta mi ha giusto a mettere a me una mano con l'angolo, mi stanno capriciando, guarda che bella, guarda che bella, guarda che bella, spero che si vedeva bene i colori della diretta, sarebbe veramente una fredatura se così non fosse, vi faccio vedere sempre una panoramica da lontano, rendete conto, guarda che bella questa, è difficile anche questa, è meravigliosa, guardate che bella, 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 allora questa qua è bella, guardate, è bella, veramente bellissima, che bella, questa pure, guardate, questa pure, questa pure verga, questa è verga, guarda che bella, ne sono veramente tantissime, sono più di 1300 se non andiamo errati, adesso poi chiederemo se è in progetto la quinta edizione, qui è tutto un'esaltazione del rosso, rosso passione, rosso, rosso meraviglioso, andiamo un attimo qua, un po' più a destra, così vi facciamo vedere, anche questo di qua, la risolta, aspetta, la risolta l'altro, il tempo fa di niente, è difficile anche farvele vedere tutte, però diciamo che ci stiamo provando, con questa diretta, con facebook che ci aiuta, guardate che bella questa, veramente belle, qui c'è un po' più sgaraggianto, guardate che bello, ricordo che mi sono tolto le scarpe, per poter camminare in mezzo alla coperta, anche perché comunque vogliamo omaggiare i tanti fondani che sono montani, sono bella, bella meravigliosa, adesso mi metto le stampe e vado sopra guardate che ci sta sopra da guardare ancora bellissimo anche meraviglioso ciao a tutti ciao ragazzi ci salutano anche dagli spalti da poco faranno anche i cuori noi vogliamo salutare anche anche Gabriella che nel frattempo si sta pettinando i capelli perché ha paura di apparire male in diretta Gabriella buonasera buonasera come sta Gabriella tutto bene tutto bene soddisfazione da 1 a 10 12 ciao Giussi buonasera buonasera a tutti una bella caldina la padovana giusto? certamente vedi stiamo continuando a vedere questa meraviglia che abbiamo qua davanti agli occhi veramente meraviglioso Gabriella ma il progetto cuore quinta edizione? certamente si si continua hai capito Gabriella confermi allora continua? si si continua da domani si parte si comincia il quinto progetto si parte allora? se amo i fondi ci vuole aiutare con della lana noi siamo contenti di accettare come no? come no? devono sempre rivolgersi a te giusto? certo sempre rivolgersi a me perfetto ok quindi avete sentito buonasera avete sentito abbiamo l'ufficialità che ci sarà il quinto progetto di progetto cuore è la quinta edizione guarda che bella questa sarà anche la quinta edizione del progetto cuore se camminiamo un po' di qua quindi le facciamo dire le altre quindi come si direbbe in questi casi anche se ha un significato completamente diverso quindi però noi lo usiamo in modo scherzoso anche se chi conosce cosa significa manifer non si intende esattamente ferri delle oh che bella sembra la F della fila la fila era l'azienda di prodotti per lo sport io vi posso garantire che la sensazione di libertà di camminare qua sopra è eccezionale è che bella questa quindi cari signore il quinto progetto cuore la quinta edizione parte da domani oggi si ritirano le coperte si comincerà a preparare queste mattonelle che verranno regalate ai centri per recupero a dei centri anziani ai senza tetto fate conto che stiamo camminando a piedi nudi nella libertà che ci può dare qualcosa che tu fai per gli altri ed è una sensazione, questa è veramente bella, questa è veramente bella questa è veramente bella questa è bella questa, questa mi sapevo come scappurio primo forse no non lo so qua è veramente bella, guardate che bella dicevo la sensazione di fare qualcosa di bello per gli altri e di camminare in mezzo a questa libertà io penso che almeno per questa diretta abbiamo fatto una bella visuale, questa è veramente molto bella questa è veramente molto bella questa è veramente molto bella quindi fare cuoricina la quinta edizione del progetto cuore parte da domani 28 settembre 2020 ora potrò restare alla start ho messo la start poi farò un po' della sopra, ho messo stamattina perché ho messo stamattina quindi andrò a fare un giro anche da sopra perché è sicuramente particolare vi faccio vedere queste coperte bella questa, guardate bella, bella, bella ciao